Ciao a tutti, bentornati alla tripletta, episodio numero 11 e non abbiamo ancora ricevuto nessuna querela Addirittura la querela Ma a lei vuol dire che ci siamo andati in mano Con Ticello ci può querela, mi può querela C no, mi Sì infatti ho guardato la mia sinistra appena ho fatto questa battuta Iniziamo questo episodio con questa tazza di OnlyFanta perché non l'ha ancora fatto quella della tripletta Di OnlyFans? Di OnlyFanta Ah, ho capito che hai detto OnlyFans Questo è il nostro podcast di Fanta Calcio, lo conosci? E poi c'è Samuele Mandrò e Nicola Scariglia No, sì, sì, li ho visti Siamo OnlyFanta, è un gioco di parole Anche OnlyFans? No, non lo vedo, non mi piace Sei un... No, 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 anzi sono contrario Se devo dirla tu Vabbè, se vuoi spiegarci perché sei contrario oppure possiamo cambiare argomento Siamo partiti bene, devo dire Ci piace la mercificazione della propria bellezza o del proprio corpo Però vabbè Vabbè, questa è l'opinione di Marco Guidi Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate su OnlyFans Su questa piattaforma Con la realtà in calo Sì, esattamente Ieri sono andato a vedere finalmente Partenope Ah, ok A proposito E c'è una bella frase Una bella frase che dice La bellezza è come la guerra apre le porte E vale anche per noi Perché se hai... Adesso poi ne parleremo Se hai un calcio bello, un calcio di qualità Le porte si aprono più facilmente Infatti nella nostra nazionale ti do un assist Ecco, grazie mille Che aveva poca bellezza, poca qualità Ha fatto una grande fatica stavolta contro la Francia Eh sì, è stata una partita difficile E ne parleremo in apertura Perché l'Italia sarà il primo argomento di giornata Secondo argomento invece sarà Milan-Iuventus e Napoli-Roma Quindi un po' la prossima giornata Milan-Iuventus ovviamente sarà il big match Napoli-Roma lo userò un po' come assist per parlare anche un po' di Ranieri Voglio sentire il tuo parere in particolare Luigi So che tu lo conosci Tars, il argomento invece sarà un'anticipazione del mercato Quindi insomma, ovviamente manca ancora un po' di tempo Però ci sono già delle voci per quanto riguarda l'Iuventus Per quanto riguarda la difesa Ovviamente voglio chiedervi un po' magari per le big Quale ruolo secondo voi devono ricoprire Se magari avete anche qualche nome Tra un argomento e l'altro Come solito le solite rubriche Top e flop Lettere Avremo dei commenti come sempre molto simpatici Quindi come sempre vi invito già da adesso A lasciare il vostro commento Abbiamo già dato uno spunto, un paio di spunti in realtà Come vedete vi leggiamo sia quelli positivi che anche negativi E infine vi chiederò la tesi come sempre Ma iniziamo subito a parlare di nazionale Luigi mi ha fatto un assist pazzesco Quindi insomma hai detto che Quindi non ci hai visto molto bene ieri con la fase No, però Dico subito il contrario Cioè non abbiamo grande diritto all'amarezza e alla delusione Questi siamo Gran bella partita con il Belgio Però l'abbiamo celebrato Io l'ho chiamata nel commento Come tanti La nazionale dei mediani E quindi Dei mediani puoi aspettarti cuore Puoi aspettarti organizzazioni Con il Belgio hanno aggredito In trasferta facciamo meno fatica Proprio perché giochiamo di rimessa Ma poi insomma Se abbiamo soprattutto mediano Ci manca Quella qualità in costruzione Ieri A parte il gol Non abbiamo quasi fatto niente Di Marco Che è sempre molto lucido Nell'analisi ha detto C'è mancata la pulizia tecnica E questa è un'analisi centrata Quindi pulizia tecnica L'aveva chiesta anche alla vigilia Spalletti Sbagliare pochi passaggi Pochi controlli E di fronte alla qualità della Francia Siamo naufragati Se poi ci mettiamo che erano anche più grosse fisicamente Abbiamo pagato quello Ma non bisogna dire Abbiamo sbagliato tutto Dobbiamo tornare indietro No la strada è questa Oggi abbiamo solo i mediani L'abbiamo detto anche l'altra volta È il reparto dove diamo il meglio La Francia aveva fuori Barcolà Mbappé a casa Mbappé e Mbélé a casa Ha una scelta enorme Noi non ce l'abbiamo Noi se alterniamo Retteghi E Ken abbiamo già finito E non abbiamo i dieci Ci siamo inventati Nel Belgio Bellissima partita di Barella Ma non è un dieci No non abbiamo Bellingham E quindi Ha fatto un gran lavoro Spalletti La strada è giusta La strada è questa Non aspettiamoci però Di avere una nazionale Che può vincere il mondiale Forse ci ha traditi Quel quarto di finale E col Belgio In contemporanea Sembrava la stessa cosa No non sono la stessa cosa Noi siamo Deminau Non siamo Simner Cargisticamente Siamo noni nel ranking Come nono Deminau Deminau vince i tornei Ma non ha vinto uno slam Non ha vinto un mille Noi oggi siamo Questa squadra Che può permetterci Certe cose Non tutte Per cui Riassumendo Non buttiamo via tutto Va bene così La strada è giusta Ma non facciamoci Grande illusioni Ne parlavo prima con Luca Dire che saremo di sicuro Ai prossimi mondiali Io non me la seguo No no Chiaramente Quindi anche Le qualificazioni Anche se la formula E la rete È larghissima È difficile star fuori Però insomma Siamo questi La contingenza storica Io direi Sì però Nel senso Credo che a questo tavolo Siamo tutti un po' d'accordo Nel senso che Siamo molto realisti Anche Marco Lo conosco Sull'Italia Siamo tutti realisti Però è vero Che abbiamo preso tre gol Da calcio piazzato Sì Questo è vero L'unico gol L'ha fatto l'Italia La Francia Non mi è sembrata Superiore così tanto Sì Ok a tratte Prima parte è il primo tempo Poi l'Italia è finito Meglio il secondo tempo Non ho visto Tutta questa differenza Onestamente In campo Anche se come valori È chiaro che il movimento francese È tre volte Quello italiano Sulle qualificazioni Sì certo Però 12 teste di serie L'Italia è testa di serie Passano le prime Le seconde Hanno poi lo spareggio È vero che ti sei giocato La possibilità Di avere L'ennesima chance Con i ripescaggi Per fare il playoff Però onestamente Spero Per la terza volta di fila Non si vada fuori È vero che abbiamo Dei limiti In alcune zone del campo Però tutto sommato Se ieri difendi In un altro modo Sui piazzati Se tieni una linea Un po' più alta O se difendi a uomo Parallossalmente Quei gol non li prendi Prendi magari Solo la pulizione Che è comunque Una carambola Sulla schiena di Vicario E quella partita Non la perdi O la perdi di un gol E sei primo A questo punto Non facciamo tutti questi discorsi Vero ma A metà strada Io sinceramente Sì tra l'altro I calci piazzati Forse è anche Uno dei problemi Dei pochi Problemi forse Dell'Italia Sì ed è uno dei pochi Che possiamo migliorare La qualità Fai fatica a migliorarla Se non con la concentrazione Con l'applicazione Con l'esercizio No Fare come Cruyff Mi ha insegnato Alla Masia del Barcellona Passa e controllo Passa e controllo Cosa semplice Passaggio e controllo Lì non puoi più sbagliare E puoi mettere a posto I calci piazzati Come diceva È assurdo Tu non puoi Preparare giorno per giorno La difesa a zona Sui calci piazzati Vai a uomo Vai a uomo Perché anche se Hai un deficit di altezza Noi a centrocampo Abbiamo giocatori piccoli Stramaccioni ha detto Una cosa interessante Ieri non pensavo Ha detto Quando ho la squadra più piccola Io difendo sempre a uomo Bravo È giusto Perché paradossalmente È una bossa Non l'avrei mai detto Se invece stai a zona Lasci magari un metro E poi vai sul tuo L'attaccante Ieri l'abbiamo perso Se tu gli stai addosso Anche lo spingi Non lo fai saltare E questa è una cosa Che possiamo migliorare Se miglioriamo Le cose che possiamo migliorare Possiamo fare tanto Anche Tra l'altro I calci piazzati Sono anche Tra virgolette Un problema per Vicario Vicario del Tottenham È un portiere Che praticamente Non ha difetti Molto amato dai tifosi L'unica cosa Che insomma È stata accusata In questi anni Sono sempre stati I calci piazzati Beh Marco Che è un portiere Sì esattamente Sul primo gol Sul primo gol Secondo me Sì sì Magari anche perché Appena cominciata la partita Un po' a freddo C'è stato Mi sembra una posizione Un corner Simile A fine partita Dove Vicario è uscito A travolta anche Buongiorno Però la parla la presa Probabilmente Se sul primo corner Con un po' più di personalità Entra subito in partita Ed esce Perché sul gol di Rabiot Guardate dove colpisce Rabiot È una traiettoria Che si abbassa Che non arriva altissima All'interno dell'area piccola Però io preferisco Tipo è pieno di uomini Però io preferisco Sempre il portiere Che piuttosto Mi sbaglia il tempo Del portiere che sta Perché se stai in porta Qualsiasi tocco è gol A meno che non te la tirano addosso Da lì Qualsiasi tocco è gol Io preferisco il portiere Che si prende a rischio Esce Esce Innanzitutto Cresco un piglio Perché comunque L'attaccante Ti deve anticipare L'attaccante Ti sente arrivare Quindi comunque Una reazione la provo Se stai in porta Lì qualsiasi tocco Su una parabola del genere È praticamente scontato Sia gol Lì il portiere per me Deve uscire Ma Donnarumma Il terzo lo prende Il primo Devo dire che C'è uno storico Non è riuscita Anche Donnarumma Insomma Nonostante abbia Un'altra struttura fisica Rispetto a Vicario Però soprattutto Al Paris Saint Germain Più che con la nazionale Insomma Due tipi di gol Ne ha presi tanti No il terzo Ti chiedevo Mi è sembrato un po' piantato Lì Vicario Però insomma Però fa Devo dire che Rabiot Fa una gran torsione Perché comunque Da un cross Non altissimo Piuttosto sul primo palo Riuscire a mettere La palombella Sul secondo In quel modo Non è facile Da prendere Secondo me È vero che Donnarumma C'è un'esplosività Tale Per cui può aspettarti Un miracolo Però lì veramente Ci serve un miracolo Anche perché Vicario tra i pali È fortissimo Secondo me Anche ieri Comunque Anche in altre cose Tra l'altro Mi hai bruciato Il mio flop Ogni volta È stato anche sfortunato Devo dire Perché per esempio Sulla punizione Fa una gran parata Perché la devi a lui Sulla traversa Sì Lì fa una gran parata Sì Sfortuna Però anche in altre occasioni Non è stato pulitissimo Mi ricordo una rispinta Mi sembra un tiro di Cuncu Basso Ti lascia un po' lì la palla Diciamo che Non voglio dire Che ha sprecato La sua chance Perché Però la maglia è pesa Non c'è niente Però Obiettivamente È stato sotto i suoi standard Secondo me Sono alti Perché è un bel portiere Molto bravo anche con i piedi Che è fondamentale Un gioco tipo Stocoglu Quindi cosa succede adesso Per l'Italia Volevo fare un attimo Chiarezza Perché ho letto Tanti commenti Anche in chiave mondiale Visto che adesso L'Italia è arrivata Seconda nel gruppo Di Nations League Adesso sarà abbinata A una delle tre prime Delle altre gruppi Quindi Portogallo Spagna O Germania L'Italia sarebbe stata In campo comunque Ma così avrà un avversario Nello stesso periodo Ma così avrà un avversario Più difficile E giocherà l'andata in casa Quindi ritorno in trasferta Questo per la Nations League Il 13 dicembre Invece ci sarà il sorteggio Per i mondiali A qualificazione Mondiale 2026 Chi andrà in semifinale Di Nations League Sarà inserito in un gruppo Da quattro squadre E comincerà a giocare Solo a settembre Perché a giugno Ovviamente ci sarà La Final Four Invece le squadre Che perderanno I quarti di Nations Potrebbero iniziare Le qualificazioni Già a giugno E avranno anche la possibilità Di essere inserite In un gruppo da cinque Non la certezza Ma la possibilità Inoltre Come dicevete Luca Ci sarebbe stata la possibilità Di un ulteriore playoff Un ripescaggio Giusto tra le seconde Tra le prime Scusa Dei gruppi Dei Nations League Che adesso ovviamente Praticamente Per farla un po' più semplice Fai le qualificazioni mondiali 12 gironi Le prime vanno direttamente Al mondiale Le seconde Spareggiano Per avere quegli altri Quattro posti Perché ora le europee Sono 16 Quindi Fanno uno spareggio Le 12 seconde E quattro squadre Che vengono prese Da chi? Dalle squadre Che hanno vinto Un girone Di Nations Esatto Partendo dalla Serie A Poi Serie B Poi Serie C Serie D Quindi paradossalmente Quel posto lo può prendere Una squadra che vince La Serie D Ma non una squadra Che arriva seconda In Serie A Di Nations Quindi l'Italia Non avrà quel bonus Però insomma C'è vero che Ci saranno altre opportunità Nelle prime due Del girone mondiale Sarebbe grave Devo essere sincero Cioè al di là del sortello Anche perché sono 12 gruppi Che ne sono No Poi tra l'altro Sei testa di serie Poi la mia Personale emozione Sulla Nations League È uguale a quella Sentiamola Una riunione di condominio Nel mercoledì di Coppa Poi vabbè Mi spiace per il nostro collega Fabio Licari Invece ha ragione Fabio Licari Fabio che Ha ragione lui Spiegate Spieghiamo Fabio si occupa Oltre che di nazionale È il nostro uomo Diciamo Che si occupa Delle tematiche UEFA E quindi in redazione Abbiamo ribattezzato Ai tempi La Nations League Come la Coppa Fabio Licari Obiettivamente Non è che mi susciti Tutte queste emozioni Io sono molto tradizionale Soprattutto sulla nazionale Non mi suscita Tutte queste emozioni Che anche Fabio È il più innamorato Della Formula Champions Che anche quella Non ti entusiasma No È terza volta Che viene nominato Io sono con Marco Sulla Formula Champions Che come sapete Non mi piace Ma invece sulla Nations Sono assolutamente favorevole Perché tutti dicono È una Coppa assurda Noi vogliamo solo l'Europa Sì però ci ha tolto Le amichevoli Sostituisce le amichevoli Non sostituisce Preferivi le amichevoli? Preferivo niente Quello è possibile Mante scherzi Sì no è vero Italia Lettonia Il 12 di agosto Finché rimaniamo In fascia A Si può pensare così Se dovessimo scendere Di fascia Vedi che magari È in Inghilterra In Inghilterra Che adesso invece È stata promossa Dopo il 5-0 Ai cugini irlandesi Adesso ci offre Obiettivamente Per noi italiani Almeno delle partite Insomma con la Francia Con il Belgio E tra l'altro Bisogna anche dirlo Dopo quell'europeo Ha detto giusto Luigi Secondo me Analizzando la partita E il percorso dell'Italia Va anche detto Che dopo quell'europeo Secondo me Anche dopo la sconfitta Con la Francia È stato fatto Un gran lavoro Sì 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 Perché È quello che dico Non abbiamo diritto All'ammarezza Fino a ieri Sera Fino a domenica sera Secondo me l'Italia Nel suo girone Era quella che aveva fatto Meglio Ma proprio anche a livello Gioco Un gioco magari Può essere limitato Perché Come ha detto Luigi Non abbiamo Quei giocatori Di spessore Tecnico Qualitativo Per variare un po' Però Io credo che L'occasione persa È stata in casa Con il Belgio Per arrivare primi Perché è una partita Che stavi dominando Ti insegnati più Lì senza l'episodio Delle espulsioni Di Pellegrini Obiettivamente Quella partita Secondo me Difficilmente Non la vai a vincere E quindi con la Francia Poi onestamente Io vedo un percorso Mi viene in mente La metafora Sempre della quercia Ricordi la quercia Di Spalletti Spalletti Innamorato di questa quercia Che ha la piantata Con suo papà Che vede davanti Casa A casa sua L'ha piantata Credo con un ramo Di quercia Adesso è diventata gigante Lui dice Grande come un palazzo Viene in mente Mi viene in mente Sempre quello Perché vedo un'Italia Che cresce Onestamente Ricordiamoci Dove abbiamo cominciato E anche dove eravamo A giugno Con un'Italia Completamente senza anima Con Spalletti Che lì Ha deluso me Come tutti Un allenatore così bravo Che non riesce A trovare proprio Tatticamente La soluzione Per i suoi problemi Anzi Si complica la vita da solo In sei mesi Cinque mesi Ne abbiamo fatta di strada Comunque C'è qualche sensazione Da pre-europeo Di Mancini Non penso Che vinceremo Un'altra volta Però c'è qualche sensazione Di crescita Come c'era allora Sono d'accordo Secondo me c'è anche più ordine Perché all'europeo L'abbiamo detto Mille volte Letto anche Da opinionisti vari C'era una certa Confusione Proprio tattica Cioè invece adesso Ma l'ha messo anche lui Certo Adesso c'è un impianto Definito Magari limitato Ok Non siamo la Germania Non siamo la Francia Che può tenere Dembele Mbappé Teo Hernandez Fuori eccetera Però abbiamo Noi siamo questi E questo facciamo E più o meno Lo facciamo Qua insieme Però ti spongo un tema Bastoni In queste partite Ha giocato nel suo ruolo E ha giocato molto bene Buongiorno Ha giocato nel suo ruolo Centrale Di tre E ha giocato molto bene Quando rientra La cala Fiori Eh Bisognerà delle scelte Bisognerà tenere uno fuori Spalletti Secondo me sì Secondo me sì Perché se no si rischia O ruotano Ma è difficile Bastoni fa il centrale Buongiorno fa il centro-destra E Cala Fiori fa il centro-sinistra Non lo so Se no si torna sempre a quel problema dell'europeo Che per cercare di inserire Esatto Gli sanatori La conclusione è completa Cosa fareste? Sono d'accordo anch'io Io rimarrei come sono E scelgo in base alla partita Ma per esempio ieri Al di là che poi abbia fatto l'assist del gol Eccetera Di Marco Fisicamente ha sofferto un po' Perché su quella fascia Cioè sia Koundé Che per dirti Davanti Columani Che può fare il centro-avanti Ma è stato usato più da esterno Fisicamente erano Obiettivamente Avversari tosti Lì puoi anche pensare Una volta a dire C'è anche Udoge Dietro Che è un buono È entrato anche bene Cioè puoi pensare di variare A seconda anche dell'avversario Sì ci sta Tenendo sempre come base I tuoi Lo so Dietro magari se voglio Un po' più di impostazione Eccetera O uso bastoni In marcatura Posso usare più Calafiori Posto che entrambi Sono giocatori bravi Con i piedi Che si difendono bene Anche in marcatura Però a seconda dell'avversario Magari quello più fisico Lo puoi far prendere a uno O in altre circostanze Usare più l'altro Buongiorno Mancino Anche lui Purtroppo abbiamo Tanti mancini Per il problema Però Secondo me Non bisogna cambiare L'impianto Buongiorno Con la stagione Che sta facendo Onestamente non si tocca Da qui A fine stagione Troppo bene Troppo cresciuto Lo vedo veramente Super sicuro di sé In questo momento Credo il miglior difensore italiano Sull'uomo Senza dubbio Grande crescita Poi con Conte Quanti giocatori abbiamo visto Migliorare con Conte In dubbio Difensori tutti Soprattutto in difesa Esatto Davanti invece Hai menzionato prima L'idea di Barella È stato provato Ovviamente anche In Raspatori Tante volte In passato In quel ruolo Come vedete L'assetto definitivo Per i mondiali Anche se in realtà Ovviamente manca ancora tempo Definitivo è complicato Lasciare Luigi Barella onestamente Mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto In quella posizione Nella prima delle due partite Molto meno Molto meno Con la Francia Però Avendo tutte queste mezze ali Aiuterebbe A creare Un problema in meno Onestamente Non penso Che Retteghi e Ken Saranno così forti A giugno Da poter giocare insieme Come i due titolari garantiti Più facile Che saranno due o tre Con Scamacca per un posto A quel punto Verre Barella dietro In partite complicate Secondo me Ti aiuta Perché Al centro campo Hai sempre la superiorità Un giocatore che Sa giocare la palla È intelligente Riempie gli spazi A me è piaciuto Luigi No no Mi è piaciuta Mi è piaciuta la soluzione Proprio perché Ti dà tante cose Ti dà Toglie punti di riferimento Agli avversari Perché lui andava in giro Liberava lo spazio Il gol di Tonali Tirandosi indietro Dettando a Di Lorenzo Che poi ha fatto l'assi Ti dà anche più forza Nel pressing Perché hai un difensore in più Che morde E come dicevo prima Secondo me È una scelta logica Obbligata Perché il meglio Ce l'abbiamo lì Ci abbiamo fuori Fagioli Insomma un po' in involuzione Ricci che ha fatto benissimo Adesso si è proposto Locatelli Rovella Debutato Come un trentenne E quindi È l'unico reparto Dove abbiamo ricchezza E dobbiamo fondarla lì Io sono d'accordo L'unica cosa Rischi un po' Cioè dipendi tanto Dalla prolificità Secondo me Di Tonali Frattesi E dei due esterni Cioè di Cambiaus e di Marco Cioè ti devono garantire gol Perché altrimenti Altrimenti se tu parti Con un assetto Con il reteghi O il candy turno Più Barella Che è un giocatore Che ha anche tempo di inserimento Però non è Cioè Frattesi Per dirti Molto più Affine al gol Infatti mi ha stupito Che abbia messo Barella E non Frattesi all'inizio Però ci può stare Perché Frattesi Forse ha bisogno di più spazio Per entrare Invece Barella È uno che ha più tiro da fuori Cioè è un giocatore Che per dirti Né in quello spazio Ha più soluzioni Cioè Frattesi Ha solo l'aggredire L'aggredire in avanti Invece Barella È un giocatore Un po' più di piede È un giocatore Che ha il tiro da fuori Un po' più di C'ha l'assist Più di Frattesi Quindi sai In quel ruolo Tu non è che Vai solo alla conclusione Devi anche rifinire Quindi ci può stare Anche secondo me Usare più Barella Che Frattesi Però è chiaro Che devi avere Frattesi Tonali Di Marco I Cambias Tutti Che ti garantiscono colpa Perché se no Anche la partita col bello Ma se non l'alternativa Cos'era Spaduri Se l'alternativa Era Spaduri Che ha una riserva Nel Napoli Da tre anni Mi tengo Barella No sono d'accordo Che non ce l'hai È chiaro Che per essere competitivo Ai massimi livelli Devi avere tanti gol Da questo Perché non puoi pretendere Che il Retteghi O il Ken di turno Abbiano il rendimento A livello di gol Dell'Holland De Kane Di questi giocatori qui Intorno agli altri De uno segnale Chi può risolvere? Maldini Con la Francia Con la Francia Retteghi Insomma Non è stato raggiunto Non può essere sempre Tutto bello Come col Belgio De Champ Ha giunto Un centrocampista Ha visto la partita Ha giunto il centrocampista E ci ha incartati Non avevamo più La superiorità Non avevamo più Gli spazi Per seguire le punte E ci siamo incartati Maldini È bello Come prospettiva Però Insomma Anche lui Insomma Primo campionato titolare Quasi quest'anno Quindi Insomma Anche lui Deve crescere Anche se ha le qualità Per giocare In quella casella lì E non ne abbiamo altre Insomma C'ha tiro e tutto Però 12 partite Un gol Secondo me In quel ruolo O è una seconda punta Molto tecnica Che vede anche la porta O è un trequartista Eccezionale O è giusto Che tu usi Il giocatore alla barella Per provare a legare Anche le parti Come diceva Marco Due di gol In Belgio Quinto su quinto Ieri Quinto su quinto Per ora Il nostro schema È questo qua Fare magari densità Pressione Cambiare gioco Dare spazio A un esterno Realismo Siamo sulla strada Top e flop Top e flop Sulla stregua Anche grazie E arriva Bob È fortissimo Anche lui Bob è fortissimo Manchester City Anche Odegaard Basta Dovrete dirgli tutti gli undici Perché non è arrivato a quello Cosa ne pensi Dovrete dare il flop Sì il flop Me l'avete bruciato Che è vicario Quindi me lo devo Riscegliere di nuovo È un po' più complesso Io però ci metto il Belgio Perché francamente Cioè Questo paese Che per anni Abbiamo Si è sempre parlato Una squadra che può vincere Che deve vincere Non ha mai vinto Una squadra che è stata prima Nel ranking No certo Non ha mai vinto Con la generazione d'oro Ora che la generazione d'oro È arrivata alla fine Perché alcuni addirittura Non ci sono più I Mertens I Nainggolan I Fellaini Cioè tanti di questi giocatori Non ci sono più Hazard Quelli dopo Che sono comunque Gente di talento De Bruyne Con gli infortuni Chiaramente si è un po' perso L'ultimo periodo Ha giocato poco In nazionale E dagli altri Dai giovani Non c'è stato ancora Cioè Perso con l'Italia Secondo me meritatamente Perso in Israele E questo diventa già Io voglio ricordare Che se Israele Per caso Vince un po' più netto ieri Belgio retrocede Ha chiuso gli stessi punti Cioè Obiettivamente Noi parliamo dell'Italia Limitata eccetera In un girone In cui abbiamo fatto Non meglio Molto meglio Del Belgio Che comunque Una squadra Che a livello di cifra di talento Non è inferiore a noi Di cifra di talento Perché comunque Dietro ne ha Eppure Anche i ragazzi Ma ce ne ha tanti Anche i giocatori Che nei propri club Fanno anche bene Però ragazzi Cioè È stata una delusione completa Mi spiace Perché anche allenato Da allenatore Infatti Mezzo italiano E secondo me È la vera delusione Della Nations League Vado io? Vado io? Dai lasciamo per ultimo Così Più watch time Esatto No Io ho il top Più hipster Della stagione Della tripletta Cioè le Faroer Ma è un po' che fanno bene Non lo sa nessuno No 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 Allora spieghiamo La Nations League Serie A Serie B Serie C Serie D L'Italia è in Serie A E lo sappiamo Che Serie B Quest'anno l'Inghilterra A sorpresa Le Faroer Tutti penserebbero Sono in Serie D Arrivano ultime In Serie D no Sono in Serie C Infatti In Serie C È finito il girone Sono arrivate terze Però hanno vinto in Armenia Che comunque O in casa con l'Armenia 23-2 Come hanno vinto Come la sai Questa statica Non preoccuparti E hanno perso Con la Macedonia Macedonia del Nord L'ultima partita 1-0 Se per caso Fanno risultato In quella partita Sono secondi Quindi nel playoff Per essere promosse In Serie B Adesso le Faroer In Serie B Sarebbe fuori contesto Insieme all'Inghilterra Non più Grandi risultati Nell'ultimo periodo Impressionante Onestamente Non so che cosa Stia succedendo Perché Non sono riuscito A fare telefonate Per capire Se c'è un movimento Se c'è qualcosa Che è successo O se è solo un caso Le faremo Impressionanti Le farò Il cambiamento climatico Non c'è più il gelo Esatto In questo ribaltamento Totale del mondo Al top Metto La squadra più Popolare Tra le squadre Più piccole del mondo E il mio flop È il giocatore più forte Del mondo Forse Kylian Mbappé Nella stessa settimana Non convocato Dalla Francia Perché Deschamps Dice fondamentalmente Ce ne sono di più bravi Di più informe In questo momento Ed è il problema Del Real Madrid Adesso sembra Un po' forzato dirlo Un po' esagerato Ma non è esagerato Perché il Real Madrid È campione d'Europa La squadra che con Ancelotti Fa funzionare tutto Da quando ha Vinicius E Mbappé Scopre che ha due attaccanti Che non difendono Uno dei due Vinicius Nell'ultima partita Ha fatto tripletta E ha cominciato A dare dei segnali Anche di partecipazione Mbappé ancora no Onestamente Nel trasferimento Più importante Forse del decennio Perché è il giocatore Più forte di questa generazione Qua nella squadra Più forte del mondo Per quella cifra Molto particolare Per quanto Come sappiamo Cos'è successo a Parigi Diventa una delusione Incredibilmente Riesce a peggiorare la squadra Non credo che sarà sempre così Tanto Ancelotti Lo farà giocare Perché lui e Vinicius Giocheranno sempre Perché è con Florentino Guarda Vinicius Secondo me Sta facendo una bella stagione Il problema è proprio Mbappé E il terzo giocatore Che è il vero sacrificato Da questa situazione Sta facendo malissimo L'ultima Sì è Bellingham E Rodrigo che non gioca Tra l'altro Si è fatto male Però devo dire Il vero sacrificato È Bellingham Che si è allontanato dalla porta Ha fatto un solo gol Nell'ultima partita Del Real Madrid Prima della sosta E sembra veramente Un pesce fuori d'acqua In campo Cioè sembra veramente Un giocatore Che non è Non sa cosa fa È in una posizione È vero che al Dortmund Giocava a mezzala Però Però era una squadra diversa Una squadra dove si correva Molto di più Una squadra molto più Di soldatini Il Real Madrid invece Era una squadra di stelle Come dici tu Mbappé magari quella cosa Non la fa L'altro pretende di fare Un'altra cosa Non rientrano E Bellingham Secondo me Sta faticando tanti È il vero giocatore Che ha sofferto L'arrivo di Mbappé Sono curioso Perché sappiamo Che con un altro allenatore Sarebbe stato fuori Uno dei due Magari anche solo Con Ancelotti E con Florentino Sappiamo che questo Non succede Lo sappiamo prima Quindi andiamo a vedere Come il sistema in campo Penso che riuscirà A convincerli A fare un po' di più Non è così difficile In fase difensiva Però sono curioso Potremmo aggiungere Alleao a questo Tridente Beh però A proposito di top e flop Ha rischiato di entrare nei top Perché ha fatto Una grande settimana Lascia stare Cagliari Che ormai È lontano Dieci giorni Però comunque Grande gol Con il Portogallo Grande azione Con un colpo di testa Vediamo la seconda partita Come va Però assolutamente Segnali Di un giocatore Che ha cambiato E poi sta meglio Anche fisicamente Insomma Un po' è testa Un po' anche fisico Stava un po' male Prima Adesso invece Chissà se la panchina Aiutata Ne parleremo Nel prossimo segmento Luigi Ma metti Cristiano Con quella rovesciata Ne ho Dai che i bambini Sono contenti Ma non più tutti i bambini Facciamo la clip facile No addirittura Il figlio Poi ti faccio parlare Scusami Il figlio di un collega Non faccio il nome Gli ha telefonato E gli ha detto Papà Tu che dicevi Che era finito Hai visto che gol Ha fatto Cristiano E rovesciato Non capisci niente Di calcio Però ha fatto Comunque sai Ha cominciato a parlare Dei mille gol È la prima volta Che lo sento parlare Un po' Dei mille gol Secondo me Secondo me È incredibile Che il capo canoniere Della Nations League Cristiano Ronaldo Il capo canoniere Delle qualificazioni mondiali In Sud America È messo Insomma Passano gli anni Altri palloni d'oro Giustamente No io scelgo Nel bene Nel male Due Juventini Cambiaso nel bene Non è una scelta Originalissima Però Insomma Anche in una partita Sofferta È stato il migliore Ancora una volta Al di là Dell'intelligenza tattica Che ormai conosciamo È il giocatore Che motta Sposta dappertutto Soprattutto all'interno Del campo A me piace L'atteggiamento Se lo vedete Mi viene spesso Da sorridere Come ti dà l'impressione Di dire Sono contento Di essere qua A fare queste cose E quindi Questo atteggiamento Positivo Entusiasta A me piace E quindi Dicevo L'ultima volta Che lui Buongiorno E Di Marco Per me sono in questo momento I migliori giocatori italiani A meno del primo scorcio Di campionato E mi sembra Che lui sta anche Staccandosi sugli altri E Bočovlaovic Bočovlaovic Ma è quello che ha detto Le parole Allora In nazionale La Serbia Mi fanno lavorare Di me Allora Non andava bene Allegri Perché aveva la squadra Troppo indietro Adesso c'è un allenatore Che ha spostato avanti La squadra Mi ha messo Sulle fasce Dei rifornitori Dei camerieri Come con Seisao Il Diz Alle spalle Cupminers Insomma Non c'è una squadra Che avvolge un centroavanti Come può fare la Juve E sei sempre Quello che tocca Meno palloni Allora Magari Non ti viene il dubbio Che ti muovi male Tu Che hai qualche responsabilità Che in tre anni Non sei cresciuto Di niente La cosa migliore Era stare zitti E lavorare Finché si fanno Tanti gol Quindi Queste parole Lontani dalla Juve Contro la Juve A me sinceramente Hanno dato fastidio Insomma Quindi Inferno Inferno Che oltre a aver detto Quello Ha anche detto È più facile Per me Giocare con un'altra punta Che nella Serbia Lui ingaggia tanti duelli Fa la sponda E mi apre spazio Io così posso sfruttare Al meglio Le mie caratteristiche Anche perché il CT Mi ha liberato Dai compiti difensivi È quello Sono andato a vedere Il video Perché non volevo Semplicemente parlarne Avendo letto le dichiarazioni A volte l'intonazione Lui ho letto Ha detto veramente questo? No Ha detto veramente questo Ah meno male Io nella mia testa Ho fatto una differenza Tra i due concetti Giocare con una punta Lui lo dice normalmente È una cosa che secondo me È anche legittimo La Juventus Non ha un'altra punta Io non l'ho citato Esatto Può dire Ok gioco meglio Con Mitro Mi fa sponda Sfrutto meglio Le mie caratteristiche Anche se poi La Fiorentina Quando ha fatto benissimo Non aveva Una punta forte vicina Invece mi è piaciuto meno Proprio il linguaggio del corpo Quando dice Io ho un certo tipo di fisico Quindi Fare tutto quel lavoro difensivo Fondamentalmente Non fa per me Dice Arrivo stanco Alla finalizzazione Poi mi è sembrato Proprio un giocatore Che si dà una scusa Anche perché poi Sapendo Parlando con persone A Torino Che lo hanno vissuto Non è Il più solido Diciamo A livello di personalità Tende un po' A Darsi una scusa Ogni tanto Insomma Come un È più duro Come appare in campo Rispetto a come sia Nella realtà Questo raccontano A Torino È interessante questo Credo Io l'ho visto un po' Questo Mi sembra un po' ingeneroso Sinceramente Questo si è ingeneroso Verso il suo allenatore Verso la sua squadra Poi è vero che i rifornimenti Non sono così Secondo me È più l'idea Che noi abbiamo Con Seisau Il Diz Copmeiner Sì però Con Seisau Ho giocato Un po' simponò Il Diz Non è Nella sua miglior stagione Copmeiner Sì è stato fuori Non ha avuto Tutte queste palle Sì ma lui stesso Non ne ha avute ovviamente A inizio stagione Aveva detto Proprio mi ricordo Un'intervista Adesso Ci divertiamo di più Giochiamo in un modo diverso Quindi Aveva riconosciuto I progressi Di moto Poi appena ti fermi un po' La colpa non è più di Allegri Ma diventa di Motta E questo Non è accettabile Secondo me Il Diz Che hai nominato Che non è tra i 10 giocatori Più giovani Al mondo Questa non l'ha chiesto Anche Giacomo Sì spieghiamo Abbiamo fatto questa classifica Gli 80 giocatori Under 20 Più forti al mondo Trovate il video su Youtube C'è il video su Youtube Esatto Lui è stato nei 15 Ma non nei 10 Mi ha chiesto anche Jack Perché Non lo abbiamo messo nei 10 Onestamente nei 10 Ci sono giocatori Marziani Cioè il numero Non so Mi viene in mente 7 Sabigno Che è titolare al Manchester City 5 Zaire Meri Che è titolare al PSG Insomma Giocatori importanti Possiamo anche rispondere agli amici Anche a Giacomo Che non è neanche il 2005 Più forte della Turchia Se vogliamo dirla Neanche nella nostra classifica Se vogliamo dirla tutto Però Per mettere un pochino su lei Vabbè Riferisco veramente A Artagouler Poi ha avuto problemi Infortuni eccetera Però Artagouler Secondo me come talento È Superiore L'avete messo anche sopra No? Sì Sì L'ha messo due Due Sì Diciamo che ce ne sono nove Sper me che non discuti Il nono era Pavlovich Che è un titolare al Bayern Monaco Come fai a metterlo dietro Poi il decimo È un po' De Gustibus Ci possono entrare in tanti E tra i tanti Ci può entrare anche il Diz Però serve un appassionato Di Diz Per dire Ok Tra i 10 giocatori Under 20 Più forti al mondo C'è il Diz In questo momento Filippo Conticello Che è un appassionato Di Vuoi dire qualcosa? No Allora torniamo Su Milan Juventus Gli assenti hanno sempre tolto Invece lui elegantemente Lo risparmia No infatti No basta Poverino Poi mi guarila veramente Adesso c'è un commento Che vi leggerò dopo Tornando a Milan Juventus Luca Ogni volta che ci sei Si parla di Milan Io ti faccio sempre la stessa domanda Parlaci un po' Dell'atmosfera Anche se in realtà Mancavano tanti giorni Però Si parla anche di cambio modulo Si parla di Una possibilità L'off-to-cheek titolare Un centro-campo a tre Ma l'atmosfera non è male L'atmosfera secondo me È assolutamente positiva Sono tutti via Quindi questo non lo possiamo sapere Come torneranno No no Ma è stato Il finale è stato problematico In campo a Cagliari Però come atmosfera Secondo me va meglio adesso Rispetto a un mese fa Madrid dopo il derby Comunque Ti lascia qualcosa È chiaramente una squadra Che gioca meglio Le partite che sente Quindi il derby E Madrid Sono non per caso Le due partite migliori Della stagione E le peggiori sono Parma Monza Cagliari Tutte queste partite di provincia In cui il Milan fa fatica Ma perché ha giocatori di questo tipo Tevernandez Leao Sono tutti i giocatori Che si esaltano In un contesto complicato Giocano magari meglio Contro il Paris Saint Germain Lo scorso anno Nel gruppo Di Champions Piuttosto che partite Di secondo piano Io mi aspetto Una partita Poi se voi ne parliamo Una partita più brutta Che bella Però questo nel calcio Sappiamo che poi Gli episodi la cambiano Quindi magari sarà 3-3 Però mi sembra Che la struttura Delle due squadre Sia per una partita Un po' più chiusa Cambio modulo Vediamo Nel senso che c'è una maglia Secondo me che balla Che è quella Che possiamo assegnare A Ciuqueze All'Oftus Cic O a Yunus Musa Ok Cambiato modulo Perché poi gli altri giocano Puoi giocare allo stesso modo O anche a Tami Ebram Puoi giocare allo stesso modo Con i quattro giocatori davanti Quindi Pulisic Morata Ebram E Leao Puoi giocare con l'Oftus Cic Al posto di Ebram E Morata Uno dei due Quindi fare il trequartista Che poi va dietro E fa il centrocampo a tre Oppure Ci puoi mettere Ciuqueze Con Pulisic numero dieci Quale secondo me È l'unica scelta Che deve prendere Fonseca In questi tre giorni In cui vedrà onestamente Come tornano tutti C'è il solito ritorno Una domanda Ti volevo fare L'assetto del Bernabeu Quindi con Musa Che poi diventava Quinto di destra È quello che gli aveva dato Un equilibrio eccezionale È una soluzione È la pancera La maglia di lana Solo se giochi Contro gli squadroni Perché implica Anche Un passo indietro Di umiltà Cioè la palla Te la lascia a te Oppure è una soluzione Non può diventare Una soluzione stabile No Lui vuole sempre Un esterno offensivo Anche io me lo sono chiesto Ho chiesto il giorno dopo Mi hanno detto chiaramente No È una soluzione Per Vinicius Non per il Real Madrid È una soluzione Per Vinicius Perché Vinicius La sinistra Pensavano Avrebbe potuto dare Tanti problemi Hanno messo Musa lì Per diciamo Raddoppiare Il Diz non lo merita Il Diz Perché non lo meriti Comunque Quell'altro Vinicius È quasi pallone d'oro Real Madrid È stato sorpreso Evidentemente Da questo Perché mi sembra chiaro Che Real Madrid Si aspettasse il solito Milan È vero che poi Il giorno prima Tra i giornali e televisioni Era uscito Musa In quella posizione Però Non si aspettavano Così tanto Secondo me A protezione Con una difesa a 5 Sempre E quindi il Milan Ha tolto i suoi difetti Che sono Prendere le transizioni Prendere le ripartenze A subire sul lato sinistro E certo che non è poco Infatti Onestamente Mi piacerebbe Rivederlo in un contesto diverso Non penso che Sia una soluzione Che va bene Solo sei contro Vinicius Beh poi la Juve Comunque a sinistra C'ha cambiato Il Diz Perché è cambiato Con l'infortunio di Cabal Con ogni probabilità Giocherà a sinistra Può essere Può essere Una soluzione Per questa partita Tu dici giustamente Il mandetto Per il Real Madrid Però Io non escluderei Che possa pensare Cioè anche Proprio perché la Juve Su quella fascia Spingerà Diciamo Con Cambiaso Che è un giocatore Molto bravo Da centrarsi Ad inserirsi Il Diz Che comunque Il giocatore È un uno contro uno Forte Può essere Una soluzione Secondo me Poi vediamo Manca ancora Cinque giorni D'allenamento Quattro giorni D'allenamento Sì Musa torna tardi Come Pulisi Come tutte le volte Tra mercoledì e giovedì Però onestamente Sul Milan c'è una cosa curiosa Così come Prima della sosta Non vince mai Sempre in trasferta In casa sempre gol 3 a 3 a Cagliari 2 a 2 Con la Lazio Quindi non vince In casa tanti gol Alla prima Dopo la sosta Ha sempre vinto E non ha mai subito gol È vero che erano incontri Insomma Venezia No Lecce Prima volta mi sembra O Venezia Ma Venezia Venezia Udinese E adesso vediamo Però tutte partite San Siro vinte Con 0 gol subito Giocano a San Siro Se la cabbala Ma vediamo Io però mi aspetto Secondo me Come ha detto Luca Proprio perché il Milan Questi impegni Li ha sempre fatti bene Io ci aggiungo anche Con il Napoli Perché con il Napoli Al di là dell'assenza Secondo me la prestazione L'ha fatta Poi chiaro ha perso Aveva tante assenze Quel giorno Anche detto Però la prestazione Secondo me l'ha fatta Io mi aspetto Una buonissima prestazione Del Milan Poi il risultato Sarà figlio Anche degli episodi Soprattutto se la partita Dove essere brutta Come ha detto Luca Quindi diventare una partita Magari decisa Da un episodio Però mi aspetto Più il Milan Che faccia la partita Più della Juve E Luigi Non la vedi invece Sì anch'io come Marco Sottolineo Casomai che È una partita importante Per tutti e due Per tutti e due Sono due squadre Che sono uscite Dall'estate In modo parallelo Due cantieri Che sono ancora In parte aperti Hanno dovuto ricostruire Hanno dovuto inserire Dei nuovi E lo scontro diretto Secondo me Vale un po' Come stato D'avanzamento Dei valori Dei lavori E quindi Si macchiesce bene Questa partita Può avere lo slancio Per le ultime Non ci saranno più soste Da qui La fine dell'andata E quindi È una partita Che può determinare Il futuro prossimo E anche per quella Probabilmente Può venire Bloccata Però la Juve Ha bisogno Di una prestazione Forte L'ha fatta l'Ipsi È in modo Un po' Così Un po' Così Occasionale Non ha il Real Madrid Non ha la partita Che ha avuto il Milan Con il derby Gli scontri diretti Vabbè È uscito con la Juve Con l'Inter Rilleso Ma di fatto Era una partita Che ha rischiato Di perdere malamente E con Napoli Insomma È stata una partita Incartata Ha bisogno Di una grande partita La Juve Per prendere coraggio Sulla strada nuova Che ha tracciato Un motto È vero Scusami Luca È vero Però è anche vero Che la Juve Non ha mai perso Di scontri diretti Soprattutto la Lazio Che in questo momento È uno sconto diretto In casa Che è in 11 contro 10 Però anche quello Un demerito L'avversario No? Farsi trovare scoperte E finire in 10 Con il Napoli Ha rischiato Pochissimo 0-0 In casa Poi uno può dire In casa Devi provare a vincere Devi vincere Quello che si vuole Con la Roma uguale Con la Roma È stata una partita Vabbè in questo momento La Roma non è uno sconto diretto Almeno la classifica Si dice di no Però è stata una partita Più o meno Come quella con il Napoli Quindi Con l'Inter Secondo me Ha dato una dimostrazione Di carattere Perché comunque Andare a San Siro Sotto 4-2 Vero che è stata una partita pazza L'Inter ci ha messo del suo Perché secondo me L'Inter Sul 4-2 Ha Peccato un po' Di presunzione Certo Di dire Di stravinco Non voglio vincere Sono 4-2 Continuo Voglio stravincere E prende 4-3 Praticamente in contropiede Cioè che Insomma Anche per lo spirito E l'idea di Inzaghi È qualcosa di Di atipico No Però ha dimostrato carattere Perché Andare sotto di due gol Questa Juve Giovane Contro l'Inter Campione d'Italia Che è più strutturata Quello che si vuole E riuscire a fare 4-4 È una dimostrazione di carattere All'Ipsia È una dimostrazione di carattere In 10 Di saltare dal 2-1 Vero che l'Ipsia Zero punti in Champions Però Andiamo a vedere In Bundesliga Sta facendo bene È una squadra che Con Sesco Penda Con Savi Simons Con un altro Che non nominerò Se non mi brucio Il mio minuto Praticamente Praticamente È una squadra Che Se sei In 10 contro l'11 Sei sotto E provi ad attaccare Ti può far male Perché davanti È forte Cioè la dimostrazione di carattere Secondo me è l'altra Sì però io dico Che difese carattere Ce l'aveva già Ce l'aveva già Con Allegri Non cambia allenatore Non cambia allenatore Carattere fino a un certo punto A Motta Hai chiesto altro Hai chiesto un gioco dominante Sì Hai chiesto E quello per adesso Insomma si fa ancora fatica Per quanto io stimi Motta Per cui una bella partita Con il Milan A San Siro Insomma Metterebbe Però onestamente Per quello che è Motta Io ho visto tante cose positive Ho saputo Poi non so se Tra i Juventini è più diffuso Il racconto dei primi sei mesi Di Cambiaso a Bologna Cioè mi hanno raccontato Che Cambiaso fondamentalmente A gennaio del secondo a Bologna Chiede di andare via Cioè chiede di tornare alla Juventus Perché Non si trovava con Tiago Motta Non Giocava poco Esattamente Tiago Motta gli dice No no Tu non vai via Perché io vedo delle cose So che Migliorerai Ce la farai Sai qua che fa bene anche a te Lui si fida Rimane E adesso vediamo Due anni dopo quasi Meno di due anni dopo È il giocatore chiave Della Juventus di Tiago Motta Se tanto mi dà tanto Penso a un giocatore come Con Seisau Che lo vede da poco E ha alcuni numeri Impressionanti Cioè per dirti Secondo per assi Si inserì al minuto Primo per conduzione palla Quindi accelerazione palla al piede Primo per cross Nell'area piccola Cioè un giocatore che Nei suoi pochi minuti Ha fatto veramente Molto bene Se il processo Il percorso È quello di Cambiaso Quindi dopo tre minuti Dopo tre mesi Quattro mesi Cinque mesi Cresce Insomma c'è tanto Coma Ines praticamente Non l'abbiamo ancora visto Sta entrando adesso in squadra Douglas Ruiz Non ne parliamo Quindi insomma La Juve di Tiago Motta Deve ancora arrivare E certo i risultati Aiutano poi A fare crescere più in fretta Tutti Però essere lì Come situazione di classifica Ah certo Con tutte queste Senza Bremer Senza Bremer E anche in Coppa Hai già fatto tanti punti No no Sicuramente un ottimo Inizio del campionato Assolutamente Buono Ottimo Vabbè comunque Buono sì Non si può dire lo stesso Invece per la Roma Che adesso ha deciso Di ripartire Dopo la sosta Con un nuovo allenatore Ovvero Sir Claudio Ranieri Come lo chiamavano In Inghilterra Luigi come la vedi? Beh è bello Insomma è romantico È bello per tanti punti di vista È bello perché innanzitutto Nell'area tecnica Torna un signore E noi ne abbiamo bisogno Ne abbiamo bisogno Che aiuti anche i colleghi Ad orientarsi Come ci si sta davanti Una panchina Difficilmente Regneri Allenerà la sua panchina Ad entrare in campo A protestare Su ogni fischio Dub Ma Roma non l'ha mai fatto nessuno No E quindi questo è bello È bello anche che torni No È un po' come Slice Taylor E Richard Barton Che si sono sposati Un sacco di volte Lui torna per la terza volta A Roma Quindi questa Questa fede Nelle nozze ripetute E non è un canovaccio Che di solito Porta fortuna No Pensiamo a due Due dei più gloriosi allenatori Dell'era Berlusconiana Sacchi e Capello Per amore Tornarono E firmarono Due dei campionati più tristi Di quel ciclo Un undicesimo E un dedicesimo E un decimo posto Pensiamo a Lippi Tornato in nazionale E lui Fa questa scelta Controcorrente Anche perché È l'eccezione No Lui è tornato Dopo 35 anni A Cagliari Dopo un grande ciclo E l'ha riportato in A Quindi non ha paura Di questi ritorni Quindi da molti aspetti E rivederlo Domenica Al Maradona È una bella cosa Poi il discorso tecnico È difficile No Però è una squadra Che sembra malata Soprattutto nella testa Perché ha tanta qualità E quindi non c'è L'allenatore migliore Per sbloccare una testa Per sbloccare un cuore È uno che sa parlare È uno che ti ridà La fiducia ambientale Questa è una cosa importante Perché la squadra Aveva tutta la piazza contro Quindi è l'uomo ideale E poi vediamo Cosa farà Dalle prime impressioni Di tirare un po' indietro La squadra Quindi per dargli Una sicurezza difensiva Meno spettacolare Però insomma È bello È bello seguire Il lavoro di Claudio Ranieri Come pensi Marco Tu come pensi Che giocherà La Roma di Ranieri? Secondo me Avrà un po' più Fra virgolette Di umiltà Perché è quello Che Ranieri Tendenzialmente porta Le sue squadre Cioè La Roma Come ha detto giustamente Luigi A livello tecnico Secondo me È una squadra Da alta classifica Anche in Serie A Cos'è mancato Secondo me è mancato Innanzitutto Come dice Luigi La mentalità Fuori dal campo Sono mancate alcune basi Secondo me A livello societario Nel senso che Quando la società È poco presente Perde di conseguenza Autorevolezza Anche l'allenatore Abbiamo parlato Abbiamo parlato tante volte Cioè l'allenatore È scelto Da una persona Che tre giorni dopo Se ne va In società Riesta un posto vacante Difficile lavorare così Ranieri Conosce l'ambiente Ranieri Per Secondo me Per come è stimato Dall'ambiente a Roma Per l'età che ha Per il passato Che ha L'esperienza che ha Può colmare Parte di quel vuoto Della società Cioè non è solo L'allenatore Diventa quasi L'immagine Il simbolo Della società In generale Proprio per Per il carisma Che ha non tanto Nel carattere Quanto per il passato Per la credibilità Che ha a Roma Quindi secondo me Prima ancora Del discorso tecnico Tattico Quella è la cosa importante Cioè può dare stabilità A una situazione Obiettivamente Andata fuori controllo Se si pensa Cioè vediamo Conè che partita Ha fatto ieri Cioè ha fatto una partita Davanti alla difesa Eccezionale A Roma Perché Perché non fa Quel lavoro lì Perché non gioca Così Perché la Roma Non ha solidità La Roma Ha incassato tantissimi gol Anche con Juric Che è un allenatore Che faceva Della solidità Difensiva Uno dei suoi Crismi Eppure Non è riuscito Probabilmente Ragneri La imposterà Proprio così Dicendo Stiamo più bassi Subiamo meno Davanti Qualità L'abbiamo In qualche modo Cerchiamo di risolverla Non sarà Secondo me Una Roma Spettacolare Però Sì però Ora non serve Lo spettacolo Non serve Lo risultato Sì Direi che è un'ottima frase Per chiudere Questo Questo argomento Siete pronti a leggere i commenti Dei nostri amati Allora Io inizio sempre Con il commento Che ha ricevuto più like Quindi il più popolare Ed è un commento Molto bello Tommy157 Scrive A Garlando Scrisi una mail Anni fa Ero ancora studente Delle scuole medie E mi era stato chiesto Di intervistare qualcuno Che svolgesse La professione Dei miei sogni Provai il colpaccio Scrivendo uno Dei miei punti Di riferimento E mi rispose Anche in maniera articolata Ricordare Questo aneddoto Mi emoziona Chissà se lui lo ricorda Sentirlo Leggerlo E vederlo È sempre un piacere Bellissima persona Oltre che professionista Vero Che bello Sembra che poi li scegliamo No È il commento Che più mi piace su YouTube No Mi fa piacere Ne ricevo tanti Proprio perché tanti Magari leggono i miei libri E poi crescono Ve lo dicevo E quindi Quando si ricordano Per me è un grande regalo Insomma Io Fin dove posso Rispondo sempre Poi magari qualcosa Scappa indietro Allora mi dispiace Però È bello Siamo una delle Delle ricchezze Del nostro lavoro È quello Poter conoscere Tante persone Attraverso anche solo Un'email Però magari dare Un mezzo consiglio Come io ne ho ricevuti Mille quando ho iniziato E questa è una delle cose Belle del nostro lavoro Marco Te scrivono i bambini Inter Bambini no Io sono come il Grinch Non mi scrivono i bambini Sto impedendo Alla mia ragazza Di mettere Le cose di Natale A casa Perché lei Adesso le vuol mettere Lo scorso Le ha messe a metà ottobre Tant'è che Poi mi è arrivata Infatti la bolletta Della luce Le luce dappertutto Che era tre volte L'anno prima Quest'anno aspetti L'8 dicembre Come da tradizione 8 no Potrò Ragazzi L'8 dicembre Si fa l'albero Vabbè La tradizione Poi mette Nico Pazzo Nella culla Il figurino Al posto Esatto Mi sono come il Grinch Anche a casa Sì Vabbè E a proposito di Marco Guidi Commento Guidi è il classico amico Che ti bullizza Ma ti ama Hashtag Pietà per Filippo Contigeno Non leggi il nome Di chi la scrive Che è bello Bernabe Un verbo Vabbè Ma certo Che si vuole bene Filippo Ama Un po' troppo Grossa come parola Diciamo che li vogliamo bene Amare Un altro commento Di Miklix Colui che aveva scritto Quel commento Che era ironico Parlate sempre Atalanta Non parlate mai Di Lecce e Genoa Che poi l'abbiamo fatto Veramente Dice Dite a Marco Guidi Che se vuole accannirsi Un po' contro Samuele Perché tu avevi detto Che era troppo preparato Vada a sentirsi Una sua puntata Di Only Fanta Con i suoi consigliati Vabbè Ma l'ho fatto Per tanti anni Anch'io Questo dei consigli Ragazzi Cioè È difficile Ma è difficile Mica peraltro Perché Innanzitutto Se Molti Ti fanno la domanda Tipo ti chiedono Chi metto per questi tre E tu magari dici Ma questi tre Io non metterai nessuno Però la risposta Devi dargli Non puoi dirgli nessuno Dici uno Magari sbagli Oppure comunque Le previsioni Sono già difficili Sui risultati Mi ho parlato l'altra volta Curiamoci sui singoli giocatori Perché tu magari Sei anche bravissimo Preparato Dici Questo giocatore Secondo me Avrà tante chance Perché è tatticamente La partita E poi questo Da due metri alla porta Non segna mai Tre volte Non è che puoi saperlo Il giorno prima Tratto c'è anche una domanda Il fantacalcio La vuoi? Sì va bene Anche Luca Ti chiedono Se è da scambiare Fabian per Ferguson Ma allora È chiaro Che tra Stiamo rubando Lavoro a Samu Tra i due Se Ferguson Recuperasse velocemente La forma Io vedo più Ferguson Vabbè Vedo più Ferguson Però il fantacalcio Lo sai di dare una risposta Ah lo so Ferguson Sì anche io Anche io Anche perché Fabian In questi tre o quattro mesi Pensavo di più Ma per quello Perché Fabian doveva essere Il nuovo Ferguson Cioè Il giovane italiano Che si afferma A cinque gole Nelle prime quindici partite Poi vediamo Quando torna Ferguson Chi gioca Però non li ha fatti Cinque gole Fatto meglio l'anno scorso Però adesso È tutto a dire Twilight Fa la battuta Insomma Fa una risposta Alla mia battuta L'altra volta Dice Parlate sempre Di Lecce e Gena Venezia Quando parlate Di Serie B Faremo un gioco Può scendere ogni volta L'abbia detto Devi chiamare Nicola Binda Ci chiameremo Sempre su Marco Te hanno fatto Insomma Presente Tanti tanti tifosi Lo stadio si chiama Ferraris Non Marassi Vabbè ma quando si dice San Siro Meazza Certo è chiaro Stiamo parlando Si sa Quando hai parlato Del Geno Di Ferraris Il Ferraris Un caldo Sia quando gioca al Geno Che quando gioca alla Samp E tu hai fatto questo commento Eh hai fatto un commento Dicendo che Insomma Il Geno ha un'ottima atmosfera A volte spingono loro Addirittura A fare il risultato E hai ricevuto tantissimi Complimenti Da tifosi del Geno Beh però Ne abbiamo parlato anche con Luigi Che lui è stato al Ferraris Diverse volte È vero Poi andiamo a vedere I gol come li ha fatti il Geno Tantissimi da calcio da fermo Tutti i minuti Con l'Inter Vabbè rigore Con il Bologna Con il Como Con la Roma È incredibile Dall'ottantacinquesimo E poi quanti gol Da calcio da fermo Ha fatto il Geno Decisivi per pareggiare la partita Non ancora ha vinto Un altro utente Ha scritto Tu lo so che lo volevi dire Quello È sempre leggere Trambi i lati Ti rispondono Tutto giusto Se non che non abbiano vinto Ancora uno in casa Però ha rischiato Di perdere quasi tutte E molte non le hanno perse E ti devo dire la verità Col Cagliari hanno una bella chance Per uscire Ad un presto tabù E questo utente Aggiunge anche Questo utente Ovviamente non io Dice Il gol più bello Visto al Ferraris Dall'ottantesimo in poi È stato quello di Borini Al derby Questo sei tu Tom Tommy Bisogna sempre leggere entrambi i lati Abbiamo un commento lunghissimo Sulla questione Ken Su Luigi Te lo riassumo forse Dice Sono completamente d'accordo a metà Citazione Gialappas Su Ken a fare per la Fiorentina Nel senso che anche io ero convinto Che avrei fatto bene Benissimo È giovane Veloce Eccetera Però i 13 milioni più bonus Che sono 5 Dice lui Adesso non so se Sono esattamente Le cifre giuste Erano troppi in estate Non perché li valesse Ma per tanti motivi Uno era in scadenza Fattore determinante Due L'ultima stagione L'Ajul ha fatto 0 gol Tre Era fuori dal progetto E quattro Fino a gennaio Quindi pochi mesi prima L'Ajul lo dà in prestito All'Atletico Madrid Ma non sopra le visite mediche Cosa che avevi detto anche tu Quindi insomma Per tutto questo Io credo che la Fiorentina Ha fatto benissimo a puntarci Ma Poteva anche pagarlo a meno Sì Soprattutto la prima Il fatto che Così vicino alla scadenza Però Ripeto Per una punta Oggi 18 milioni Per una punta titolare Non sono tanti Del 2000 Eh Del 2000 Con il futuro davanti Insomma Andiamo a rivedere altre valutazioni Al confronto Sono più imbarazzanti E poi Precisiamo una cosa Sotto una certa soglia La Juve Non poteva scendere Per non fare una minusvarezza È chiaro È chiaro Quindi Sarebbe perfetto Per una squadra Che cerca una punta Da far giocare insieme Al suo centravanti Oppure al posto Del suo centravanti Quando non sta bene La Juventus Oppure potrebbe comprare Direttamente Mitrovic E fare la sintesina Perfetto Mitrovic guadagna Mi sa In Arabia Anche più di Vlaovic Che è il giocatore Più pagato della Serie A Esatto Damian ci dice Io alla Roma Era prima Che Ranieri Arrivasse Io alla Roma Vedrei bene Allegri Perché no Grande Luigi Che bello che sia tornato Comprerò Libro Sicuramente No no Allegri Sarebbe stato Un buon allenatore Proprio per il carisma La durezza anche Dei modi Il bisogno poi Di fare un calcio concreto Come farà Ranieri Quindi sarebbe stata Un'alternativa Secondo me validissima Matteo invece Torno sul discorso Vlaovic Questa è una sua opinione Che vi espongo Secondo me Sono i 10 kg Di massa muscolare Che ha preso Che lo rendono Meno agile E più macchinoso Stessa roba Che è praticamente Successa a Bernardeschi O in maniera ancora più eclatante A Pato Con il Milan Si ricerca la perfezione Atletica del calciatore Al giorno d'oggi Ma per alcuni Diventare doppiamente più robusti È una condanna Siete d'accordo? Devi invitare Fabrizio Salvio Che su questo Ha speso ore e ore Allora Su Pato sicuramente È passata la storia E credo che poi Lo pensi anche lui L'abbia in qualche modo Detto o pensato In questi anni Sì sì l'ha detto Ecco Qui su Vlaovic È un po' diverso Onestamente non lo so Sono 10 kg di massa Tu ti ricordi 10 kg di massa In mezzo Alla Fiorentina Mi sembrano tanti Onestamente Sembrano tanti Forse era un modo di Insomma Sì no Anche perché poi Le occasioni le hanno Non puoi dire che non arriva più Sì ma non è più dirompente Come in quella stagione È vero Fisicamente è meno brillante Però comunque A occasioni Non puoi dire che è scomparso È stato fermo 9 mesi E poi altri 6 mesi Come successe a parte Per gli infortuni Devo dire che vlaovic Questo mi arrivava per testimonianza diretta Già quando era la Fiorentina Era magnacale Nella cura del corpo Per esempio Usava anche delle tecniche Tipo la coppettazione Che non sono propriamente scientifiche Però era uno che Anche in privato Preparatore atletico Personale Cioè era uno che ha sempre Curato quell'aspetto Come Holland un po' Quindi non è una cosa Direttamente adesso della Juve Alla Juve ha avuto Dei fastidi Dei infortuni Tipo la pubalgia Che sono comunque complicati Da superare L'hanno frenato sicuramente Questo prima Delle discussioni Sul calcio d'Allegri Sul peso della maglia Secondo me Problemi fisici Li ha avuti E l'hanno frenato In passato Adesso pare star bene Però forse qualcosa Nella testa Questi ultimi due anni Li hanno lasciato Però questo Che dice il nostro lettore È un po' Un gioco di equilibrio Che vale in tutti gli sport In generale Mantenere la velocità Mantenere E però anche Prendere potenza Per esempio Parlavamo prima Di Deminauro È un giocatore Che ha una velocità di piedi E avrebbe bisogno Di strutturarsi di più Però se prendi peso Perdi poi l'agilità E quindi è sempre In tutti gli sport Credo un gioco di equilibrio Pensiamo anche Al Grandi Vialli Che cos'era Cremona Era una farfalla Poi è diventata Un'altra cosa Ha perso Forse l'agilità Però ha acquistato Poi il ruolo Di centroavanti Primo E quindi Bisogna fare sempre Delle scelte Non è facile Poi calibrarle Salvare tutto Potenza e agilità In pochi Mi viene in mente Lebron James Forse Cristiano Ronaldo Nel calcio Che sono riusciti A mantenere Il livello fisico Crescendo Magari Lebron è diventato Molto più Magari Un po' meno potente Rispetto ai primi anni Di carriera Ma La durevolezza E Ne ha acquistato In tante altre cose Ronaldo È uguale Cristiano Cristiano Inizia Che è un giocatore Molto Di drivi Molto agile Molto veloce Pura All'inizio Infatti Poi diventa Più centravanti Diventa più Potente Forse Però riesce A mantenere La carriera Ancora adesso Se non migliorare No appunto Dico È difficile Però trovare Siamo lunghi È un pochino Non so Ogni puntata Che passa Mi cresce l'ansia Di andare lunghi Forse perché Sono più anziano Di voi E sento il tempo Che passa Seconda cosa Seconda cosa Seconda cosa Sarà puntuale Invece E anche questa Mi ero segnato Altri commenti Ma come dici te No vabbè Tanto poi Sono anche Sono anche Altri temi Che abbiamo Già toccato Uno su Fonseca Su Teo Eccetera C'è la corso di Gianluca Visto che a te piacciono Le novità Dice che Gli arbitri Non servono più Andrebbero sostituiti Dalla AI Sì Come tante colpe Possiamo anche In cucina Mettere l'AI No vabbè Aspetta però Seriamente È più difficile Che in altre cose Sul fuori gioco No vabbè Però in realtà L'AI penso che Potrebbe togliere il lavoro A tutti noi Al 92% delle persone Che ci ascoltano Quindi è una minaccia seria Per tutti Per gli arbitri Forse un po' meno Nel senso che Ok fuori gioco va bene Goal non goal va bene Però sui contatti Vammelo a spiegare Qual è l'entità Il contatto L'AI rileva La forza cinetica Di un colpo Sulla gamba Dell'attaccante Onestamente Non così semplice Non così semplice Poi arriveremo Alla rivolta Delle macchine Quando saranno Le macchine A giocare a calcio Allora lì sarà più agitivo Alla rivolta Delle macchine Che decidono loro Che avranno una coscienza loro Propria Magari non buona E quindi a quel punto Di lei Un argomento Per un'altra Per un'altra volta Ultimo argomento La giornata Volevo parlare Un goccio di mercato Ovviamente è molto presto Però si parla Della Juventus Ovviamente al problema In difesa Si girano tanti nomi Dragus Schiriner Hanchko Badia Shell E vari altri Quindi volevo usare Che si dice probabilmente così Che si dice probabilmente così Forse è il primo Come dicevi Tutti Ma tutti Badi a Schile Badi a Schile Si dice la genitale Badi a Schile Correggetemi nei commenti Se sbaglio No no è giusto Penso sia giusto Si sembra una contea di Londra Sì Badi a Schile Sarebbe ancora più Vi lascio la parola Che siete più attrezzati Volevo chiedervi Per le grandi Quindi Milan Inter E anche Napoli Ci ho avuto dentro Prima classifica Secondo voi Quale ruolo Gli serve coprire A gennaio E se avete un uomo Magari da poter suggerire Magari ci stanno guardando I direttori sportivi Possiamo dare anche Allora due sono facili Ce li giochiamo subito Per il Milan E per il Napoli Penso che sia Abbastanza facile Per il Milan Mi sembra Evidentemente Quello che in Europa Si chiama il 6 Cioè il centrocampista difensivo È stato preso Fofanà Per quella posizione Ma in realtà Fofanà è un giocatore diverso Un giocatore che fa Le due fasi Ed è probabilmente Più bravo ad attaccare Che a difendere Poi per il Milan Sta limitandosi E quindi non lo vediamo Nell'altra area Non lo vediamo andare a calciare E fa il 6 Cioè il centrocampista difensivo Insieme a Reinders L'idea del Milan È di prendere Un suo vice O chissà Un titolare futuro Che giochi al suo Opposto Oppure anche insieme Metti un perno difensivo Più Fofanà e Reinders Come mezziali Secondo me Sarebbe molto interessante Perché protegge la difesa Libera Loro due Il giocatore Insomma Nella storia Tanti esempi Ma che lele Ancora più Forse di Kanté Casemiro Esa e Esa e Esa e Esa e Assolutamente Quello milanista Bombom Bombom il milanista Temato a gennaio Decisivo Per la scuola Assolutamente Non sono Non sono accostabili Temo sul mercato Quindi tu mi hai chiesto dei nomi Io ti faccio un nome alto Un nome completamente sperimentale Il nome alto è Ederson Che è Settamente forte Si è illuminato Devi mettere soldi Si è sentito un boato Arrivato da Bergamo Esatto La querela sta arrivando Non ti sbagli Però paghi Si sta muovendo il Colleoni Direttamente A cavallo Ma un po' brizzolato Un accento torinese Un giocatore sperimentale Sarà perché abbiamo parlato Dei giovani Prima viene in mente Andrei Che è stato Andrei Santos Che è stato a Chelsea Adesso a Strasburgo Che è più o meno Quel tipo di giocatore Quindi un giocatore Che somiglia un po' a Casimiro Che gioca in quella posizione Ha fatto molto bene Anche in fase offensiva Al Mondiale Under 20 2023 Nettamente miglior giocatore Mi ricordo gli scout Con cui ho parlato Il mese dopo Era l'inverno Febbraio più o meno E mi dicevano No questo qui Nettamente il giocatore Più forte che abbiamo visto Poi ha fatto molto male Perché il Chelsea Aveva 100 giocatori Come sempre Poi l'uomo è andato a giocare È andato male Adesso in Francia Sta facendo bene Ho ricominciato a segnare E gioca anche in quella posizione O soprattutto in quella posizione Quindi mi viene lui Se vuoi passa Marco Se no ti dico rapidamente Il Napoli È un difensore centrale Perché se pensi Che a centrocampo Ha anche delle alternative Davanti c'è Neres Che non gioca Entra Oppure se gioca lui Sta fuori Politano Ed entra Quindi ha un cambio sempre In mezzo c'è Gilmour Che non sarà il giocatore Più forte del mondo Però è una garanzia Quando può cambiare Cambia con Gilmour Dietro le alternative Sono Juan Jesus Che ha giocato una partita male Se non mi sbaglio E Rafa Marin Che chiaramente Conte non vede E non lo vuole Non lo vuole far giocare Perché non ha giocato mai Quindi giocherò sempre gli stessi Lì un cambio servirebbe Si parla di Biol Udinese Bene Si parla anche Di altri giocatori Chi Però insomma Già Biol Secondo me darebbe una bella mano Sì sono d'accordo Sono d'accordo Inter e Juve Sono più difficili Quindi La Juve Il difensore Obiettivamente Dopo l'infortunio Arriverà sicuramente Chiaro Penso si è scontato Lì secondo me Si cercherà di trovare Un'opportunità di mercato Ci sono dei giocatori importanti Nei citati tu Scrinia Al PDG non gioca Chiaro C'è uno stipendio impegnativo Lì ci vorrà Anche una mano Magari da chi cede Cioè dal Paris Saint Germain Di turno A dire non so Magari in prestito Con metà stipendio A testa Anche se Marco Anche il discorso tattico lì È condizionante Nel senso che lui vuole Poi un centrale Che imposti Scrinia Reu Non è forse in questo senso No è vero In prima fila Anche se poi All'Inter era migliorato In questo Sì Ho giocato prima a 4 Poi a 3 Dragusin L'hai nominato È un ex Juve Insomma Genoa stava facendo benissimo Il salto in Premier L'ha un po' pagato Perché in Premier Non sempre benissimo Sì però È stato condizionato Da una squadra Che insomma È difficile È difficile Entrare in difesa Con Romero E Van de Ven No no Infatti Anche infatti Anche la squadra Dove ha una concorrenza Insomma di livello Mi piace anche Che molti non se lo ricordano Pessoa di la Fiorentina E fosse qua Non voglio dire una cavolata Vado a memoria Magari sbaglio Però se non sbaglio Se hai già visto la Fiorentina Ai tempi Che ha un mancino Che al Feno Da far più bene Controlla E secondo me È una scelta Intrigante Interessante È vero che Bremer Non era un mancino È anche un mancino Quindi è un giocatore Un po' diverso Però a buon piede Tant'è che All'inizio Se non sbaglio Partia addirittura Da terzino Dove giocava? 18-19 5 presenze Bravo Vedi Vedi Non ti chiamano Il A caso Per niente Vabbè Comunque no È un giocatore Che è nato terzino Poi è passato più centrale Perché è a buon piede Quindi può essere una soluzione Alla Tiago Motta Ok Quindi Non vedi più indicato Chiaro che Anco però Lo devi pagare Vice Vlaovic Ecco bravo Lì volevo arrivare L'idolo mio E di Tommy L'altro problema Dillo tu No ma dillo tu Quello Cioè prendere un Vice Vlaovic C'è uno a Leverkusen Che gioca poco Patrick Schick Esatto Io ho intervistato Uno da Vogliasco Si può fare? Dopo non aver superato Le visite mediche Alla Juventus Potrebbe tornare Sarebbe incredibile No onestamente Vabbè Questa battuta Che so che Un giocatore preferito Tuo e mio Però Però Avrebbe un senso Un giocatore che lì È abbastanza perso Ma vabbè Perso Quando gioca Gioca poco però Gioca poco Gioca poco Però Secondo me Difficilmente parte in prestito Cioè Quindi se devi pagarlo E la Juve ragazzi Non può pagare tutti Se investi Se il difensore riesce A trovare quella mediazione Lì magari può investire Per l'attacco Cioè Doppio investimento Per me sarà difficile Più facile Il doppio prestito Trovarlo Però non è facile Vediamo Però sicuramente Sarebbero due nesti Importanti Per la Juve Cioè Vici Vlauvi Sì Li devono prendere Dai Li prenderanno Sì Poi inseriamo Per finire l'Atalanta Perché È il mercato Che deciderà Se A un certo livello Poi ci parte Ederson Luigi No No Questa è un'idea nostra Cui Gasp vuole Giustamente Uno in mediana Che dia cambio a Ederson Ha provato a tirarla via L'ultima partita Ha dovuto rimetterla Dopo 20 minuti Secondo me potrebbe essere Un profilo interessante Anche se ha caratteristiche Tecniche inferiori Ma gli serve soprattutto Uno Che dia il cambio Anche a Derona Friendrup del Genoa Che è un bel gioco Se ne è parlato anche Del mini Sarebbe una classica mossa D'Atalanta Peraltro Per un giocatore Dal Genoa Che fa un salto Senza che sia Tanto fece una gran partita Guarda Perché loro lo stadio L'Atalanta Genoa 0-0 Con Blessing L'anno che retrocede il Genoa Friendrup è arrivato A gennaio Al Genoa Quindi da poco Era tipo marzo Com'era il settore ospiti Cantavano gente Mi ricordo Gentilima Noi portoghesi E praticamente Sullo 0-0 Friendrup sbaglia Un gol incredibile Perché il Genoa Fece una bella partita Riusciva a fare 0-0 A Bergamo Friendrup fece una gran partita Ma sbagliò Un gol incredibile Veramente incredibile Venuto in mente Quando hai citato l'Atalanta Però Era una delle prime partite Di Friendrup Al Genoa E poi un attaccante Con le caratteristiche Di Luckman Quindi veloce Facile Eh no Veloce Ovviamente Come progetto Poi non di quella qualità Però veloce Tecnico Di fascia E anche se L'acquisto è migliore Sarebbe respingere Poi le tentazioni Per Luckman Che arriveranno Di sicuro A gennaio Parigi Chiama Eh sì sì Però se lo trattiene Compra questi due Tutti i discorsi Che abbiamo fatto Sulla Taranta Dello Scudetto Ingrassano parecchio Per chiudere L'Inter invece Dici sempre Che manca un tribulatore Esatto Avete un nome In testa Che vedresti bene All'Inter Per colmare Forse più un attaccante Un esterno Quindi più che un attaccante Sì un esterno a destra Secondo me Ma Chiesa cosa dici Cosa dici Molto criticato Gioca poco Non lo so Un giocatore di premia Avrebbe senso Chiesa secondo me Ancora un giocatore di Serie A Perché la premia Non l'ha mai fatta Ma uno dei tuoi Uomini di riferimento Al Miron Che sto giocando meno A Newcastle Lascia stare A Newcastle È la prima cosa Non ti permettere Al Miron No beh Al Miron è un giocatore Che ha quella cosa lì Del saltare l'uomo Eccetera Non so Non so Come Enzaghi Può fare Non può fare tutta faccia Può fare la seconda punta Ma secondo me Non c'entra niente Con il lavoro Che fa Lautaro Che fa Turam 3-4-2-1 Dietro una punta Simone No no Però prima o poi Dovrà fare Non lo so Magari è convinto Che toccando qualcosa Peggiori Bisogna anche rispettare Un allenatore Che ha la prova dei fatti Nell'emergenza Con Sanchez Tante volte Faceva l'1-2 E quindi Sì Ma lui Proprio nelle emergenze Quando il Titanic Con la punta giù Perché se no Non lo farà mai Finché va così Lo farà secondo me Quando le cose Non andranno bene Capirà Come tutti gli allenatori Capita di avere Un mese e mezzo Di passaggio a vuoto In cui fai tre sconfitti Il Miron Penso sia paraguaiano L'Inter non ha posto Secondo me no Perché ha preso Palacios Non so neanche se ha posto Per essere comunitario Vabbè Siamo parlando di fantamercato Comunque Siccome Andrei Santos Non si ha passaporto Comunitario No è vero Il Milan non ha il posto È vero che Se tu parli per gennaio Dobbiamo fare discorsi diversi Io parlavo più In prospettiva Gennaio-giugno Senza stare a sottilizzare Però è vero La situazione su Ederson Che è Se vuoi stare Sull'attualità vera Allora dobbiamo parlare Due secondi di Boadì Che il Milan Segue fortemente È sicuramente Il primo nome Per il centrocampo A giugno Servono soldi Non parte adesso Assolutamente Però è un giocatore Del 2007 Che gioca Quasi titolare a Lille Ha fatto alcuni titolare Alcuni no Però ha fatto titolare Quale a Real Madrid Giocando molto bene Fonseca lo ha lanciato L'anno scorso Quando di anni Aveva 16 Non ancora 17 Anzi inizia la stagione Inizia la stagione A 15 anni E lui lo fa giocare A 16 E quindi è l'allenatore Suo di riferimento Il Milan chiaramente Lì qualcosa Proverà a fare Ha già provato Lo scorso anno A fare un mezzo sondaggio Un mezzo tentativo Non è andato bene Secondo me A giugno Lui potrebbe andare via Vediamo dove Vediamo che stagione fa Perché se fa una stagione Incredibile A quel punto Arrivano l'inglese È un po' come io Quando ho fatto la stagione Incredibile E' stato a Real Madrid Va bene Vedremo Mi perdonerete Per aver saltato Ah già Finalmente a Real Madrid Vicino a Real Madrid Mi perdonerete Per aver saltato La tesi Già hai fatto di tutto Per difendere Dice solo chi Allora Vi racconto solo questo Un secondo Nel 2022 Il Milan compra Dal Bruges Charles Decateler Partito Eppure Decateler Non è il giocatore Con miglior talento Di quel Bruges Uno dice Noah Lang No Il nome ve lo faccio dire Dal papà di Noah Lang Perché io Vado a pranzo Nel maggio 2022 A Milano Con Jeffrey Lang Che è un personaggio Incredibile Un mix tra Karen Bö E Lenny Kravitz La sua vita La passata A fare il bartender Nei club Di mezza Europa Quindi può raccontarti Di tutto Rasta eccetera Mi dice Guarda mio figlio È uno sicurissimo Di sé Mi diceva Si ritiene più forti Di Decateler Questo nel 2022 Lui è più forte Di Decateler Ti dice che è più forte Di Decateler Eccetera Però c'è un giocatore Del Bruges Che mi dice È più forte di me Anche se ha 17 anni Quel giocatore Antonio Nusa Tre gol E due assist Nella Norvegia Nell'ultime due partite 2005 È andato all'Ipsia Sta trovando spazio Anche lì Perché praticamente Ha preso il posto Da titolare E quindi è più forte Sia di Decateler Che di Bravo Ed è rimasto nel tempo Professionista Luca In chiusurissima Ah la vuoi? Certo Allora io Visto che non mi avrebbe avvisato Che ci sarebbe stata Però Come no? C'è sempre No ma le ultime due settimane Non l'avete fatta Non l'avete fatta No ma va bene Ma va bene Allora parlando con Luigi Mi è venuto in mente una cosa Classifica Serie A Partiamo dal fondo Venezia e Monza 8 Lence 9 Genoa 10 Cagliari 10 Como 10 A 12 Verone Parma C'è una sola squadra Che se facciamo un sondaggio Con 100 persone Per 95 Retrocede Ed è il Venezia Questo è vero Si ritorna La un po' per l'opinione È che Non è così scontato C'è una possibilità Concreta per me Che il Venezia si salvi È una cosa Che non direbbe nessuno Però Le altre non stanno Per niente bene Giampaolo a Lecce È un grandissimo esperimento Che può andare bene Ma può andare Parliamoci chiaro Anche molto male Perché è un allenatore Che non è abituato A lottare per quei treguardi E non mi sembra Neanche una squadra così per lui Non ha mai giocato Col trequartista ad esempio Il Monza Continua ad avere Delle difficoltà Il Verona È partito bene Ha fatto punti subito Però Subisce troppi gol Come io e Marco Sappiamo per questioni Che non starei qui a riferire Il Genua Davanti Ha tanti problemi Quindi qualche gol Per salvarti Lo devi fare Però un'ottima tefoseria Assolutamente Il Como Per tutti noi Si salva Perché gioca bene Perché ha talento Perché Nico Pazzo Sicuramente da qui a maggio Cresce Fa tanti gol Non è così scontato Che si salvi Quindi Il Venezia ha una chance Dai 10 secondi Il Venezia si salverà Ma 30 secondi Mi li dai Come no Con riflesso senile Mi è venuto in mente Che io associo Le Faroe All'atterraggio Più drammato Quando sono andato Con la nazionale Le Faroe È un aeroporto Pazzesco Ci vuole un brevetto Un brevetto apposta Per Io che non sono Sono abbastanza coniglio Sull'aereo Ho ancora i brividi adesso E poi un'altra cosa Un vero successo Scusami Eh no Un atterraggio Turbolenze Sì Però poi Subito Dopo le montagne Un paesaggio lunare Stupendo Una delle trasferte più belle E poi finito l'allenamento C'è il pulma Fuori dallo spogliatoio Vedo Mario Balotelli E mi avvicino Per fare due chiacchiere E Mario mi chiede Ma perché c'è l'erba Sui tetto delle case Beh Una domanda lecita Sì E tanti hanno magari Questa impressione Di un ragazzo Un po' stupidotto Che guarda il telefonino Io non so quanti Di quegli azzurri lì Se fossero posti Quella domanda No L'erba serviva Per trattenere il calore E quindi E la curiosità Di cui Mario è ricchissimo È simbolo di intelligenza Quindi Ti voglio bene Anche per questo E forza Genoa No Io da giornalista Sono in parziale Al contrario tuo No io non sono genuano Eh Chissà Chissà Il che non è un malico Va benissimo Comunque grazie a questo Aneddoto Luigi Prossima settimana Io lo dico in anticipo Faremo la rubrica L'aneddoto di Luigi No Tutti Anche a lui Ognuno è il suo Ognuno è il suo Quindi vi farò raccontare Degli aneddoti Siamo in chiusura Direi Abbiamo parlato un po' di tutto Come sempre Lasciate un commento Che vi leggeremo Nel prossimo episodio Su qualsiasi cosa Sui argomenti Di cui vi abbiamo parlato Su Luigi Su Marco Insomma Leggiamo tutto Come vedete Come al solito Iscrivetevi al canale I soliti inviti Lasciate un mi piace E lasciateci una valutazione Se ci state ascoltando Su Spotify O Apple Music Direi che ho detto tutto E ci sentiamo La prossima settimana Ciao a tutti Ciao